Che vuoi? Uomini e donne Gossip, Giorgio Manetti innamorato? Vinzuiden Gossip uomini e donne, Giorgio Manetti continua a far parlare di sé, ecco le ultime news. Giorgio Manetti è una dei cavalieri più amati di Cancelletto uomini e donne. Luomo è noto per il suo spirito libero e per la sua storia damore con la dama torinese Gemma Galgani. La love story tra Giorgio e Gemma è durata otto mesi ed ha appassionato milioni di telespettatori del daytime. Le cose tra i due non sono però andate per il verso giusto, dato che il 4 settembre 2015 Gemma ha deciso di lasciare luomo, perché lui non ricambiava il suo stesso sentimento damore. Nonostante la relazione tra i due sia finita da ben due anni, negli studi di uomini e donne e nelle riviste di Cancelletto Gossip, si continua ancora a parlare della vicenda. Uomini e donne, le ultimissime news su Giorgio Manetti. Il gabbiano, nonostante sia molto corteggiato allinterno degli studi televisivi di uomini e donne, non è ancora riuscito a trovare il vero amore. Luomo ha dei gusti molto particolari e nessuna donna fino ad ora è riuscita a conquistare il suo cuore. Ultimamente il cavaliere di uomini e donne ha rivelato di essere arrivato alla fine della stesura del suo nuovo libro, in cui parlerà anche della propria esperienza allinterno del daytime. Dalle ultime indiscrezioni, ci giunge voce che luomo potrebbe avere un nuovo amore, dato che è stato avvistato mano nella mano con una donna negli scorsi giorni. I fan delluomo sono molto felici della notizia, ma hanno anche timore di non rivedere più il cavaliere durante la prossima edizione del TOC. Il diretto interessato non si è ancora espresso sulla vicenda, ma poche ore fa ha scritto un post sul suo profilo Facebook, dove dice che lunico modo per vivere dignitosamente è quello di fare le proprie scelte e di assumersene le responsabilità. Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo si sono lasciati. Durante le ultime puntate di Uomini e donne, abbiamo visto un avvicinamento tra Gemma Galgani e Marco Firpo. Tra i due sembrava essere scoccata la scintilla, da quello che si poteva vedere dal profilo Facebook della Galgani, che non perdeva occasione per mostrarsi in compagnia delluomo e dichiarava di essere molto innamorata di questultimo. Nelle ultime settimane però, i due non si sono più mostrati insieme sui social ed inoltre la Galgani, sempre pronta a rispondere ai suoi fans, ignora tutte le domande su Marco. In molti telespettatori di Uomini e donne che credono che la storia tra il cavaliere e la dama sia giunta al capolinea. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori news sulla vicenda. Grazie a tutti i nostri spettatori di Uomini.